allora buonasera a tutti io direi che possiamo cominciare il tema di oggi di questa sera è come misurare l'efficacia di un'attività su linkedin sia per il profilo individuale anche in parte vedremo qualcosa per quanto riguarda la pagina linkedin sempre un po imbarazzante presentarsi comunque per chi non mi conosce perché la prima volta che si è iscritta a questo webinar io mi chiamo nernardo bellini mi piace presentarmi come il papà di linkedin for business è un progetto che ho lanciato alcuni anni fa e abbino all'attività di consulenza formazione manageriale presso le aziende anche un'attività in qualche modo accademica sono professore a contratto e docente in alcune business school e università italiane in particolare all'università cattolica da quest'anno anche l'università bicocca e sono docente presso alcuni master allo iulma la luis e l'università di udine la mia passione è quella di scrivere oltre che di leggere di comunicare ed è per questo per cui ci riduciamo il venerdì alle 18 dopo un'intensa settimana a passare insieme un'oretta allora benvenuti questo webinar perché mi conosce ho letto anche i feedback del sondaggio che ho lanciato alcuni giorni fa questo web è tipicamente un concentrato di contenuti quindi chi mi conosce sa che un ritmo abbastanza incalzante quindi concentrati silenzio il tuo smartphone chiudi la porta per isolarti chiudi la tua email magari prende anche carte pa e pena per prendere appunti la replica di questo web sarà disponibile ai membri dell'academy cos'è l'academy alcuni di voi sono già presenti in academy è come dire la mia conventicola privilegiata di persone che mi seguono e che desiderano approfondire veramente in maniera seria il più possibile come dire completa quella che è la loro attività su linkedin quali sono le motivazioni quali sono le practice quali sono le strategie tutto il resto la membership academy consta di due webinar al mese di un'ora e mezzo ciascuno poi dipenderà di di solito saranno sono anche quasi due ore e l'accesso a una libreria di video corsi molto importante che di per sé costa se sommiamo il costo di tutti i corsi più di 500 forse 600 euro e sono aperte da oggi ufficialmente l'espezione per l'academy 2021 e il prezzo di lancio è di 67 euro fino al 30 novembre l'edizione prossima comincerà il gennaio 2021 dopo il 30 novembre il prezzo pieno è 97 euro al mese oggi di cosa parliamo parliamo di come definire gli obiettivi e le metriche per il tuo business su linkedin parleremo anche di caso in aziendale e poi parleremo di integrazione tra metriche individuali con quello aziendale ma la prima domanda che ti faccio è qual è la ragione che ti porta a investire del tempo su linkedin hai definito il tuo obiettivo primario perché non ci nascondiamo su linkedin noi abbiamo un altro cappello quello che ci porta per esempio a voler migliorare la nostra visibilità la nostra reputazione a crescere il nostro personal brand e sicuramente le tipologie di profili sono anche influenzate dalla nostra età dalla nostra ambizione e da cosa stiamo facendo nel questo momento nella vita quindi un laureato un business manager un sales manager o un HR manager investiranno il loro tempo su linkedin per raggiungere obiettivi differenti anche assolutamente differenti tra di loro alcuni degli obiettivi principali che possiamo associare a un utilizzo di linkedin in chiave business perché io di questo sto parlando al di là poi della passione della piacevolezza nel leggere contenuti altrui nel creare contenuti nella interagire tutto il resto potremo in qualche modo anche però provare a dare un senso di business in ottica di monetizzare quantomeno misurare l'investimento in termini di tempo e di energia su linkedin come quindi proviamo a misurare il ritorno di questo investimento come possiamo misurare il ritorno on investment su linkedin primo punto è capire perché siamo su linkedin in termini di obiettivi qual è il nostro obiettivo non puoi dirmi tutti devi scegliere uno forse due al massimo un obiettivo può essere fare personal branding fare le generation fare networking fare attività di recruiting o di ricerca candidati di talent acquisition oppure fare implore branding sicuramente possiamo facilmente associare ad alcuni dei profili standard delle persone che sono su linkedin degli obiettivi specifici il manager potrebbe avere l'obiettivo di come dire avere grazie alla presenza su linkedin dell'opportunità di carriere quindi essere trovato donna ed hunter fare application a una posizione lavorativa in un'altra azienda un altro obiettivo può essere quello di espandere il proprio network professionale costruire rafforzare la propria rete di relazione di valore basato sulla fiducia e ovviamente un altro obiettivo può essere quello di aumentare la reputazione costruire il nostro personal branding che su linkedin trattandosi di contenuti legati al lavoro e di ambiti assolutamente professionale parliamo di professional branding lo studente potrà voler cercare lavoro il recluter cercare talenti le cell manager il comunicato comunicazione manager rendere attrattiva la propria azienda attraverso contenuti di leadership che fanno percepire all'esterno qual è la storia la cultura e valore dell'azienda in modo da tirare talenti migliore quindi fare branding in quanto employer ovvero datore di lavoro il 6 special e se infine potrà utilizzare linkedin per trovare contatti con contatti potenziali clienti per coltivare tali contatti fare un'attività di lead nurturing o comunque gestire tutto il processo di ricerca prospect tramite 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 linkedin obiettivi tipici per ciascun ruolo quindi lo abbiamo già un po detto in allorato l'obiettivo finale potrebbe essere quello di fare un colloquio di lavoro con l'azienda ai propri sogni il business manager magari sviluppare ottenere valutare nuove opportunità di carriera il sales manager generale nuovi lead ottimizzare il processo di vendita ottenere nuovi clienti quindi questa può essere una metrica in cui misura la propria attività su linkedin le char manager identificare nuovi talenti semplificare o migliorare il processo di tale scouting contattare figure magari da proporre a un'azienda cliente se siamo una società di ricerca e selezione quindi proviamo a lanciare il primo sondaggio di stasera qual è il tuo obiettivo principale su linkedin vediamo come possiamo segmentare la nostra audience nel frattempo saluto anna bianca chiara che prima non avevo visto giuseppe maria assunta miriam ciao miriam ma silvia colombo simone e altre persone che stanno nel frattempo arrivati ancora qualche secondo chiudiamo stop al televoto come si suole dire condividiamo risultati ecco quindi no ma personal branding di generation jobs e che naturalmente io vi ho forzato a scegliere solo un obiettivo quindi magari non escludo anche sono sicuro che chi avrà scelto di generation avrà anche un obiettivo di reputazione personale di generation ok quindi come sapete linkedin vi offre quattro tipologie di account premium che vanno proprio a indirizzare i bisogni le esigenze di queste quattro tipologie di figure quindi il job seeker magari una persona giovane nel laureato in cerca di lavoro il manager chi si occupa di recruiting e chi si occupa di vendita quindi per ciascuna di queste figure ci sono delle soluzioni ad hoc degli account primi in particolare perché si occupa di risorse umane di recruiting la piattaforma la prima si chiama linkedin recruiter mentre il nome per l'account premium per il venditore si chiama sales navigator linkedin sales navigator allora io ho provato in un esercizio un po come dire ambizioso quasi spericolato a mappare tutta una serie di metriche associabili a quattro dimensioni la dimensione individuale quella del profilo quindi vedete individual profile qui ho selezionato tre sotto categoria l'identità il network e contenuti e poi all'interno dell'identità ho definito ancora un altro livello quindi identità in termini di visibilità quanto il tuo profilo visibile su linkedin di credibilità quanto sei credibile e quanto già il tuo profilo riesce attraverso la capacità di attirare potenziali interlocutori chiave quindi potrebbero essere potenziali datore di lavoro potenziali talenti potenziali clienti quanto riesci a come dire mettere in moto o sviluppare un processo di attivazione di opportunità poi altre altri elementi altre metriche legate all'identità la forza del profilo l'efficacia del profilo e poi parliamo anche di social selling in index in particolare per quanto riguarda l'identità è la prima dimensione quella che ci interessa quella che in qualche modo misura la completezza del profilo il nostro personal branding in termini di visibilità quindi quanto volte il posto profilo appare nelle ricerche quante volte quante visite mediamente negli ultimi 90 giorni avete ricevuto sul vostro profilo parlando di credibilità alcune metriche comunque elementi da considerare sono il numero delle conferme di competenze e magari anche la qualità delle conferme delle competenze che avete ricevuto le recommendations ovvero le segnalazioni ora in italiano hanno cambiato le chiamano referenze le citazioni magari all'interno dei gruppi qualificati i messaggi diretti magari le proposte di diventare ospite di un podcast oppure di fare una colla per valutare un preventivo una collaborazione una consulenza un altro elemento che ti può dare credibilità è anche il numero dei follower che ti sta seguendo per quanto riguarda l'opportunità tutto ciò che può avere una ricaduta in chiave business è legato alla tua attività innanzitutto partendo dall'identità del tuo profilo poi oltre all'identità abbiamo il network quindi come hai sviluppato il tuo network quanto è qualitativamente valido centrato rispetto a quelli che sono i tuoi obiettivi quindi sul network poi si potrebbe parlare moltissimo scegliere il giusto equilibrio tra quantità qualità ma durante le lezioni parlo anche di smart network che è un concetto che va al di là della classica dicotomia quantità qualità quindi quali sono alcune metri che ci permettono di capire la qualità del nostro network e quanto possiamo essere soddisfatto il nostro network è responsivo quindi che tipo di risposta abbiamo nel nostro network che tipo di engagement e che tipo di commenti e di reazioni generano poi i nostri contenuti verso la prima nostra audience che sono i nostri i nostri collegamenti e poi un'altra metrica può essere legata ai contenuti quindi in questo caso qual è il tasso di engagement dei nostri dei nostri post o dei nostri articoli quanti commenti quante relazioni quante condivisione genere ricevono i nostri contenuti qual è la rilevanza in termini di post rispetto poi al nostro personal brand in che misura quindi i nostri post e aumenteranno la nostra reputazione quanto sono in qualche modo intimamenti connessi con la nostra proposta di valore con la nostra identità con la nostra mission e poi altri elementi che ci possono far capire come stiamo performando bene scusatemi questo verbo rispetto a questa dimensione che quella legate contenuti poi parliamo di linkedin page quindi come possiamo misurare la nostra pagina linkedin le metriche principali sono tre quindi i company dei followers e i visitors quindi la pagina aziendale ci permette di capire chi sono quali sono i parametri demografici dei nostri visitatori oltre che il numero l'andamento in termini di visite visitatori unici qual è il tasso di crescita dei visitatori sulla nostra pagina ea quale funziona appartengono a quale seniority a quale dimensione aziendale appartengono quindi stiamo attirando le persone giuste magari vorremmo attirare letti director di aziende con almeno 200 dipendente della lombardia invece stiamo attirando stagisti della campagna di un'altra divisione quindi questo è importante perché ci servono queste metriche per valutare quanto attraverso i nostri contenuti la visibilità per esempio il nostro comprenate stiamo attirando visitatori e li stiamo convertendo in follower quindi un altro metriche interessante è il rapporto tra visitatore follower quindi da una parte abbiamo visitatori da una parte abbiamo il follower di cui possiamo conoscere ancora una oltre a questi cinque parametri demografici la seniority ovvero aziende aziendale la funzione aziendale il settore industriale appartenenza la dimensione dell'azienda e nella geografica e qui potremmo misurare il tasso di crescita le nostre tattiche per far crescere la nostra community la nostra follower base sono efficaci stiamo utilizzando correttamente gli hashtag stiamo costruendo un piano editoriale che sia bilanciato che tenga conto dei reali interessi o come dire curiosità o contenuti rilevanti per la nostra audience e tutta un'altra serie di elementi che praticamente si analizzano quando si fa una valutazione o si fa un impostazione di una piano editoriale nella strategia editoriale per una pagina linkedin è l'ultima tipologia di metri che proprio ci aiuta in questo quindi noi tramite gli analytics della pagina linkedin poi lo vedremo alla fine di questa di questo webinar possiamo conoscere qual è il tasso di engagement di ciascun update quanti clic ha ricevuto qual è il click through rate la percentuale di clic rispetto alla visualizzazione quante viste visualizzazione quanti commenti quante reazioni ovvero like wow love celebrate eccetera hanno ricevuto i nostri company update poi se vogliamo cercare di essere più esaustivi possibile dovremmo anche considerare le metriche rispetto ai gruppi magari siamo fondatori di alcuni gruppi nel mio caso io ho creato un gruppo siamo a digital marketing lab il nome della mia azienda credo ormai dieci anni fa su linkedin forse nel 2009 e devo dire che negli ultimi settimane forse mesi ho notato un come dire un risveglio in termini di interesse di richieste di adesione è come appunto come nuovi membri a questo gruppo quindi per un brand che ha investito nella propri dipendenti sulla pagina linkedin magari creando pure un gruppo questa è un'altra metrica a considerare come l'ultima metrica da considerare sono quelle con cui attraverso le quali misuriamo l'efficacia delle nostre campagne di advertising su linkedin cosa vogliamo raggiungere con le nostre campagne su linkedin vogliamo incrementare la notorietà del nostro brand quindi in questo caso le metriche sono tipicamente le visualizzazioni su rate magari anche appunto la qualità del traffico che portiamo verso le nostre landing page se l'obiettivo è quello di consideration alle metriche classiche sono il tasso di engagement delle relazioni eventualmente ancora reti su rate quanto azioni sociali quanti elementi di realizzazione siamo riusciti a creare sponsorizzando il nostro contenuto o creando il contenuto ex novo per esempio un video quindi video ars ventino tipicamente nella nella consideration e se invece il nostro obiettivo è generare di qualificati quindi abbiamo scelto quello come tipologia di obiettivo per la nostra campagna sul linkedin ebbene potremmo aver fatto una scelta quella di aver inserito anche un obiettivo di conversione e quindi potremmo misurare per esempio le conversioni che avvengono sulle nostre landing page sul nostro e commerce e oppure anche sulla nostra pagina carriere dove c'è un application per nuovi candidati e con la scegliendo l'obiettivo di generation possiamo anche associare un lead generation forma quindi un modulo di acquisizione lead che ci permette quindi di ovviare magari alla difficoltà di creare una lenda in peggio efficace persuasiva chiara veloce integrata con le auto del nostro sito e quindi potremmo misurare questa è una metrica tipo di campagna di generation su linkedin quanti nuovi lead abbiamo acquisiti l'amministratore del campanella si troverà proprio un file excel con i dettagli sui lead acquisiti coloro che hanno sottomesso i dati in automatico soprattutto da mobile molto comodo per ottenere una lead magnet un download di un white paper l'accesso a un contenuto premium eccetera quindi ho provato rimanendo su questa slide facendo questo esercizio un pochino quasi di da scalico un po quasi così narrativo di senza spostarmi a questa pagina anticipati un po tutti i contenuti di questo di questo web era cercando proprio utilizzando solo una pagina di darvi una visione quanto più chiara spero concentrata e sintetica sintetica possibile quindi questa è un po la questa slide che questa mappa mentale che poi vi invierò via mail a tutti voi a coloro che in generale si sono ci sono iscritti alla newsletter a questo a questo webinar tornando quindi ora sui principi di cui abbiamo parlato quindi abbiamo parlato di identità quindi abbiamo detto come io posso scomporre e identificare alcune metriche fondamentali abbiamo parlato di identità network e contenuti quindi identità metriche legate al nostro personal branding metriche legate alla nostra capacità di sviluppare un network di qualità e metriche legate alla nostra capacità di generare contenuti coinvolgenti di fare engagement attraverso i nostri contenuti possiamo vedere quindi queste metriche qui anche in questo in questo modo quindi parlando di visibilità tre metriche facile da scoprire per dimostrare per misurare e quindi anche registrare nel tempo i nostri miglioramenti in termini di visibilità abbiamo raggiunto l'efficacia massima del profilo quante sono le visualizzazioni che il nostro profilo ha ricevuto negli ultimi 90 giorni quante volte siamo comparsi nelle ricerche parlando di credibilità ovvero di validazione sociale quali sono le attestazioni riconoscimenti che gli altri ci hanno donato ci hanno di cui ci hanno fatto dono e che rafforza la nostra credibilità quindi le conferme di competenze che ormai da alcuni anni sono più affidabili e interessanti anche rilevanti rispetto anche a un posizionamento in termini di seo su linkedin quindi le conferme di competenze se ne abbiamo molte e autorevole aiutano a posizionarci meglio nei risultati di ricerca quindi hanno una valenza in termini di seo di search engine optimization su linkedin per quanto riguarda le segnalazioni la quantità le qualità delle recommendations delle segnalazioni che abbiamo ricevuto fa sì che il nostro profilo abbia maggiore probabilità di apparire nei primi posti di ricerca dovremmo avere almeno tre segnalazioni per apparire prima di un nostro chiamiamolo concorrente o una figura che ha un profilo molto simile alla nostra quindi obiettivo se ancora non ce l'hai task del giorno è arriva ad avere tre almeno tre segnalazioni poi rafforza completa cura tutti gli elementi del tuo profilo quelli che ti danno maggiore credibilità possono essere i progetti e nei progetti tu puoi aggiungere e citare altri contributori al tuo progetto hai scritto un libro insieme un'altra persona è svolto un progetto con magari un altro consulente con un tuo collega con un tuo partner anche con un tuo ex collega eccetera aggiungi la sezione nella sezione progetto questo tipo di informazione e poi le opportunità di cui abbiamo un parte già parlato quindi e questo è più difficile ovviamente gestirlo o tracciare questa attività direttamente con una metrica come dire linkedin ma noi sappiamo che da quel contatto è generato un collegamento che poi abbiamo continuato nel tempo da cui è generata magari una proposta ripreventiva da qui poi magari un nuovo cliente ecco vedete o ritagliato e zoomato questa la parte non del ramo di como ma della della mappa mentale che fa riferimento a questi a questi elementi quindi visibilità credibilità opportunità e poi abbiamo visto anche network e content la visibilità andate sul vostro profilo troverete la vostra dashboard privata e qui scoprirete se avete raggiunto la stellina cioè loro star quante sono le visite al nostro profilo gli ultimi 90 giorni e quante volte il vostro profilo apparsa risultati di ricerca la credibilità quindi quante conferme di competenze anche da chi linkedin vi mostra alcune delle figure che ritieni più autorevoli per come dire confermare quel tipo di competenza le recommendations queste sono le mie quindi le segnalazioni che ho ricevuto quindi ancora una volta il rapporto tra segnalazioni date ricevute può essere interessante dovrebbe essere ovviamente bilanciato verso quelle che avete ricevuto e poi tutti gli altri elementi che rafforzano la vostra credibilità la formazione progetti corsi in generale i traguardi che avete raggiunto e poi l'opportunità quante e le richieste di collegamento da potenziale cliente state ricevendo quante persone vi dicono che mi hanno trovato perché magari hanno cliccato sul vostro website le informazioni di contatto vi hanno scritto perché la vostra email o altre informazioni sono presenti su linkedin ecco tutto ciò ci porta al concetto di funnel allora qualcuno potrebbe dire anche tu parli di fan allora attenzione che io ho cominciato a parlare di linkedin funnel mi fregio di questo nel 2014 nel 2015 infatti nel mio libro che è uscito nel maggio del 2016 come usare linkedin per il tuo business io definisco questo linkedin funnel e quindi li quattro stadi famosi del modello aida li ripropongo investe linkedin quindi fatti trovare renditi visibili su linkedin cura la tua visibilità su linkedin parliamo quindi di awareness o se vogliamo di visibilità in termini personal branding interesse rende il profilo interessante attenzione non per tutti ma per chi è il tuo lettore principe il tuo cliente tipo il tuo interlocutore chiave engagement pubblica e condividi che genera l'engagement e poi trasforma il tuo contatto in clienti quindi questo è come se fosse una una mappa che in qualche modo considera delle micro conversioni tipicamente di un fan al per portare una persona che non ti conosce che magari per esempio si imbatte sul profilo perché hai postato un commento su una persona che lui segue o di cui è collegato oppure perché ha fatto una ricerca su linkedin per specifiche parole chiave quindi una persona che non ti conosceva che a fronte di una ricerca a fronte di una navigazione eccetera arriva sul tuo profilo ecco in questo caso è come se il tuo profilo fosse una landing page la tua personal branding landing page quindi essere visibile a parire del motore di ricerca nel news feed generale interesse per poi arrivare a generare contatto quindi potremmo identificare alcune metriche chiave per ciascuno di questi quattro stati quando parliamo dei warner quindi parliamo di quanto è visibile il tuo profilo quante volte si apparsi alle ricerche quante sono le visualizzazioni nel tuo profilo parlando di interesse quanto il tuo profilo genera interesse quindi quanto a fronte delle di una visita questa si trasforma in una richiesta di collegamento o addirittura in un email o una richiesta di collegamento eccetera poi l'engagement quanto ovviamente generano engagement i tuoi post e le conversioni quanti collaborazioni proposte di lavoro quanti nuovi live hai generato quindi quali sono i tuoi risultati su linkedin quante persone hanno visitato il tuo profilo supponiamo nell'ultimo mese quanti richiesti di collegamento interessanti ha ricevuto quante interazioni hanno generato il tuo post quante nuove occasioni di business è generato grazie al link vedete ho scelto una metrica per ciascuna dei quattro step del funnel e vediamo ora di lanciare secondo sondaggio quindi allora che tipo di risultati hai generato rispetto alle tue attività scusate che c'è un errore vabbè diciamo che provate a votare hai generato appuntamenti contatti di lavoro colloqui di lavoro lead nuovo business ovviamente è tutto correlato all'obiettivo primario che hai scelto quindi come misure la tua attività la risposta giusta e dipende dall'obiettivo quindi se l'obiettivo era commerciale lead generate nuovo business se l'obiettivo era quello magari di fare networking ovviamente può essere quanto è cresciuto il mio network quanti nuove richieste di colloquio quanti contatti da dante da società di selezione ricevuto se l'obiettivo era trovare un nuovo lavoro vediamo risultati nuovi appuntamenti ottenuti nuovi lì generati colloqui di lavoro quindi vedete in questo caso è un po più frastagliata la risposta a che punto sei quindi effetto un odio iniziale per capire se stai raggiungendo i tuoi obiettivi quindi quando parliamo di awareness abbiamo detto il tuo profilo e la tua landing page personale e tu puoi misurare l'efficacia del tuo profilo quindi puoi annotarti se ovviamente hai raggiunto questa efficacia del profilo che dipende da una serie di elementi quanto è curato alcuni elementi chiave del tuo profilo se hai inserito la foto se hai inserito almeno altre competenze se hai raggiunto almeno un certo numero di collegamento se hai anche inserito ora qui non c'è la sezione informazioni o about in inglese quante visite ha ricevuto il tuo profilo negli ultimi 90 giorni è come dire quante persone hanno bussato la tua porta o ti hanno che hanno fatto una telefonata perché come se fosse una visita no come se fosse un social forna linkedin e quindi quante persone in qualche modo hanno mostrato interesse verso la tua persona verso la tua professionalità quindi annotati questo elemento con la versione premium oltre a vedere l'andamento puoi scoprire anche a quale azienda appartengono queste persone linkedin ti aiuta a identificare le persone interessanti che hanno visualizzato il tuo profilo vedete 82 interesting views e qui poi c'è tutta un'attività ovviamente di monitoraggio di gestione di queste visite magari contattare persone che non conoscevi da te che non vedi a tempo che hanno hanno visitato il tuo profilo oppure persona che è conosciuto da poco che stai per incontrare quante volte sei apparsa nelle cerche quindi questa è la terza metrica abbiamo detto quindi il primo è verificato di aver raggiunto l'efficacia massima quante volte quante visite ha ricevuto il tuo profilo quante volte la terza metrica sei apparsa nelle ricerche cliccando sul link che trovi qua sempre nella tua dashboard accederà a una serie di informazioni in particolare scoprirai dove lavorano le persone che qualche modo i tuoi search vedete qui una serie di aziende qual è il loro job title qual è la loro occupazione e per quale parola chiave sei apparsa nei risultati e quindi ti hanno ti erano trovato quindi naturalmente anche una volta la domanda è stai attirando sul tuo profilo le persone giuste e dall'altra parte grazie al tuo posizionamento ai temi di cui ti occupi a come costruito il tuo profilo sei visibile per quelle parole chiave e verso quelle figure che rappresentano il tuo interlocutore chiave quindi ti ritrovi nelle buyer persona sa che tu vorresti atteggiare vedete in mio caso marketing specialist specialist direi di si preoccupo di marketing social selling eccetera e anche il ruolo alcune parole chiave possono essere importanti come si fa a migliorare le apparizioni nelle ricerche aggiorna periodicamente il tuo profilo inserisce un progetto un corso un traguardo una un contenuto multimediale aggiungi una nuova attività quindi il consiglio vedete di linkedin improve future search appearances make sure your profile is abited with your most recent information altro punto interessante altra metrica molto discussa gettito di costante di dibattito quasi di scontro filosofico all'interno dai cosiddetti più o meno appassionati sedo esperti o realmente esperti di link è il tuo social selling index questo indice sintetico che va da un centro che tiene conto di quattro dimensioni ciascuna nelle quali il cui punteggio può arrivare fino a 25 e queste dimensioni sono la prima legata all'identità quindi stabilisci il tuo professional branding la tua identità ovvero questa questa dimensione ora lo vedremo dipende da quanto stai curando aggiornando e è completato il tuo il tuo profilo sull'inche dinna poi la seconda dimensione è quella della tua capacità di usare la ricerca avanzata di linkedin i filtri che hai a disposizione per trovare i tuoi prospect la terza a che vedere con i contenuti con l'engagement quindi quanto interagisci con i post altrui e quanto i tuoi post general engagement la quarta è la tua capacità di costruire il tuo network in maniera efficace e durevole in maniera permanente allora facciamo ancora questo quiz quanto è qual è il tuo social selling index quindi a quale fascia appartiene prima fascia fino a 25 alla seconda la terza o alla quarta poi annotati questo tour social selling index poi dopo scoprirai per pochi minuti perché ti chiedo di fare questa verifica quindi se in attitudine su un foglio non solo magari le quattro dimensioni ma l'indice complessivo proprio lo score complessivo nel tuo social selling index allora ancora tre secondi 1 2 e 3 stop al tele voto chiudo il sondaggio ecco questi sono risultati quindi 51 75 ottimo direi 77 per cento quindi io vedete con questo webinar la mia metrica è la qualità dell'audience che ha tirato devo dire medio alta anzi forse alta assolutamente quindi complimenti a voi da una parte in qualche modo mi prendo dei meriti anch'io di avere un pubblico qualificato che che mi sta seguendo che sta guardando con me questo mi sta seguendo questo webinar allora perché il social selling index è importante perché non è così trascurabile o snobbabile come alcuni fanno questa è una ricerca che ho avuto sapete il privilegio di vedere un attimo in anteprima perché conosco richard van der blom e perché mi ha coinvolto in alcuni suoi progetti anche di training in italia ecco questa ricerca mostra come lì le persone che hanno un social selling index maggiore di 90 ottengono una riccia organica superiore nettamente alla media cioè il 150 per cento coloro e alcuni di voi ce ne sono che hanno una social selling index tra 65 e 90 ottengono un beneficio in termini di maggiore possibilità di essere visti che i tuoi contenuti siano visti dal dal tuo network vedete 125 per cento tra 60 e 75 e per cento addirittura meno di 30 25 per cento quindi questo è rispetto al regio rich cioè alla copertura media che può avere un posto su linkedin l'algoritmo di linkedin penalizza coloro che hanno social selling index più basso e privilegia premia coloro che hanno un social selling index più alto vedete dalla 75 in su sostanzialmente quindi la conclusione di questa ricerca euristica condotta dalla richard van der blom del suo team per altre persone ora non mi sto a citare tutti i dettagli estremi della ricerca ci porta a questa conclusione dal punto di vista euristico il social selling x elevato porta più visualizzazione vi facciamo un ulteriore passo vediamo quindi come possiamo costruire o utilizzare una formula che ci permette di calcolare qual è la nostra come dire porzione di audience che vedrà tipicamente i nostri post ogni volta che pubblichiamo nuovo contenuto sul link di gli elementi da considerare sono se abbiamo raggiunto l'efficacia massima del profilo e ancora una volta se l'abbiamo raggiunta avremo un busto vedete 1,5 per la richard per la copertura normale se intermedio 1 se principiante 0,5 allora noi per semplicità consideriamo 1 se avete livello intermedio 2 perché così è fino a pochi mesi fa quindi consideriamo un fattore moltiplicatore moltiplicativo 2 nel caso abbiamo raggiunto l'efficacia massima del profilo credo che tutti voi che mi state seguendo l'abbiate l'abbiate raggiunta faccio questa piccola come dire previsione eventualmente chi mi vuole scrivere in chat per darmi conferma di questo quindi avete ora non ho risposto un sondaggio l'efficacia mass del profilo vi scrivo in chat la domanda provate a darmi quindi magari la risposta via chat ecco allora l'algoritmo di linkedin vediamo alcuni insight quindi considera il tuo social selling index e prende il primo numero poi questo numero moltiplicano per due se hai raggiunto l'efficacia massima all star oppure per uno quindi e poi molti poi questo numero tieni una percentuale e poi moltiplicano per il tuo attuale numero di collegamenti di primo livello ok quindi vediamo un esempio supponiamo che il tuo social selling index sia 67 quindi diventa 7 perché prende il primo numero poi moltiplica questo numero per due se il tuo profilo all star quindi 6 per 2 fa 12 quindi poi considera la percentuale quindi prendi o facciamo un altro esempio supponiamo che sia 80 quindi prendi 8 per 2 16 fa il 16 per cento del tuo numero di collegamento supponiamo che sia 11.000 questo è più o meno sono più o meno le mie le mie metriche quindi i miei valori e quindi io vedete otterrei 1760 visualizzazione questo si chiama anche il tuo primo badge organico cioè è la porzione della tua audience che verrà raggiunta che visualizzerà inizialmente il tuo il tuo contenuto ancor prima che ci sia stato un engagement ancor prima che il tuo contenuto abbia ricevuto commenti la che interazione che abbiano quindi aumentato la possibilità e l'estensione della del tuo della copertura ovvero della visibilità del tuo post quindi significa che senza alcun engagement ricevuto ogni mi update in generale raggiunge circa 1700 1800 persone stato questi numeri ok quindi provate voi a calcolare questa formula quindi apprendere il vostro social selen index moltiplicarlo per 1 per 2 ottenere la percentuale moltiplicarlo per il numero attuale dei vostri collegamenti vediamo nel frattempo allora nel frattempo saluto massima col punto esclavativo massimo si sandro si vero tutti si quindi uno entusiasmo generale nell'audience e tutti avete raggiunto l'efficacia massa del profilo che fa molto piacere ma avevo pochi dubbi quindi qual è il tuo primo badge organico quindi quando calcola questa formula quindi banalmente prendi il primo numero dell'essere si scorra moltiplica per 1 per 2 ottiene una percentuale moltiplico per il numero dei collegamenti quindi tornando a noi vediamo un attimo se riesco a recuperare il sondaggio qual è la tua rice organica iniziale ok quello che ho chiamato first badge e tra 500 mille è come nel mio caso secondo questi numeri 3.000 e 3.000 oppure magari maggiore di 3.000 magari avete una buona combinazione tra collegamenti ssi e ovviamente avete raggiunto l'efficacia massa nel profilo quindi rispondete a questo sondaggio dovrebbe essere anche l'ultimo di stasera allora chiudiamo il sondaggio e continuiamo i risultati allora tra 1.000 e 3.000 10 per cento maggiore di 3.000 non c'è nessuno tra 500 e 1.000 30 per cento vedete quindi una buona equi ripetazione rispetto meno recente tra 100 e 500 tra 500 e 1.000 quindi questo vi dà una misura dell'efficacia della vostra capacità di generare engagement di ottenere visualizzazione e ottenere interazioni rispetto ai vostri contenuti rispetto ai vostri post quindi credo che questa chicca mi ponga nell'empirio scherzo dei vostri migliori webinar che avete ascoltato ultimamente nel frattempo saluto anna ponticello anna zenoni cecilia altre persone che ora vedo che sono arrivate ok quindi chiudiamo il sondaggio e vediamo come ottimizzare qui se social salini del seme ha capito che è importante quindi vediamo la prima dimensione il personal branding quindi il punteggio tiene conto dell'efficacia massima del profilo se è aggiunto dei contenuti multimediali per esempio stai curando la sezione in primo piano hai ovviamente una foto del profilo hai molte conferme di competenza e scritto degli articoli ecco questi tutti questi elementi per esempio la sezione in primo piano ovviamente molto importante per fare personal branding per raccontare qualcosa di più di te attraverso immagini documenti link post eccetera poi inserire quattro tipologie di contenuti post quindi puoi riprendere un posto di successo che ottenuto un grande engagement e lo metti in primo piano lo metti in in bacheca come si succede per gli altri social network in per quanto riguarda gli articoli link esterni può essere un link a un video e media quindi immagini documenti presentazioni con la prossima release dovremmo poter caricare nativamente anche il video ad oggi può inserire solo un link al video le conferme di competenza le abbiamo già parlato e poi gli articoli poi vediamo la seconda dimensione find the right people misura la tua capacità di fare prospecting in maniera efficace usando i filtri di ricerca quindi il punteggio e tiene conto di quante ricerche di persone svolgi con la cano gratuito con stessa navigator con stessa navigator al lead builder che è il motore di ricerca per trovare lead quante volte vai a sul profilo del tuo prospect anche fuori dal tuo raggio d'azione della tuo network e quante visite magari di ritorno ottieni da parte di tuo prospect che vanno a vedere chi sei a visitare il profilo quanti leader è salvata con stessa navigator e da quanti in quanti giorni mediamente 66 attivo quindi ricerca i tuoi prospect sul link di magari collegamenti di secondo livello imposta la location l'azienda il job title eccetera eccetera visita il profilo del prospect quindi supponiamo di aver ottenuto questo lento risultati visita il profilo del prospect e ricerca e salva i tuoi lead con stessa navigator questa è una ricerca vedete che ho fatto con stessa navigator che posso ricercare sia per account o per lead e questo è un elenco del dei lead che ho salvato arriviamo alla terza dimensione engage with insights quindi misura la tua capacità di far scoprire condividere contenuti di valore per avviare e posso sostenere una relazione quindi ancora una volta è un engagement non fino a se stesso ma come parliamo di social selling è finalizzato a attirare l'attenzione o avviare conversazioni o a sostenere una relazione condividendo contenuti di valore con un tuo prospect quindi quanti post hai condiviso che tipo di risultati ottenuto in termini di engagement o hai dato rispetto ai post altrui magari di prospect idem per quanto riguarda i tuoi articoli quanti messaggi ha inviato magari con un link segnalando un contenuto tramite messaggio privato un contenuto magari di un post che hai pubblicato qual è il tasso di risposta delle tue email ovviamente serve account premium è a disposizione le email i gruppi che ti hanno accettato gli account salvati con stesso navigator e anche le visualizzazioni delle pagine di account con stesso navigator engagement dato e ricevuto quindi qual è l'engagement generato nel tuo posto lo abbiamo accennato quando vi ho descritto le metriche della mappa iniziale vi ricordate abbiamo parlato di identità di network e anche dei contenuti quindi di engagement quindi puoi vedere l'engagement ricevuto da un post i gruppi a cui sei iscritto e arriviamo alla terza dimensione build strong alla quarta dimensione scusatemi build strong relationships cioè misura la tua capacità di fare spendere il tuo network per raggiungere prospect e e o coloro che possono introdurti a loro cioè che sono collegamenti diretti di un tuo prospect il punteggio tiene conto del numero di collegamenti in target quindi in che misura in che percentuale ci sono le buyer persona se tu hai prospetti tuoi interlocutori chiave all'interno del tuo network attuale cioè dei tuoi collegamenti di primo livello se il mio obiettivo è quello di avviare delle conversazioni con marketing manager o sales manager quanti sono all'interno dei miei collegamenti diretti e quanti tra i miei collegamenti sono persone autorevoli influencer piuttosto che follower eccetera eccetera il livello di collegamenti con i tuoi colleghi quindi sei connesso con i tuoi colleghi in azienda anche questo è una dimostrazione di voler sviluppare relazioni importanti e qual è il tasso di accettazione e di accettazione delle richieste di collegamento che invii quindi quando inviano anche essere collegamento è importante che sia il più possibile convulgente coinvolgente convincente personalizzata in modo che tutte le tue richieste di collegamento vadano a buon fine quindi se hai in tasso di accettazione delle richieste di collegamento per esempio superiore al 90 per cento sicuramente ne beneficerà il social selling index e di conseguenza la tua capacità di avere una ricerca migliore quindi il tuo profilo seo e seo friendly sicuramente questo ti permetterà di migliorare la tua visibilità di e favorirà il fatto che tu apparirai più spesso a fronte di alcune parole chiave prova a installarti su chrome credo sia ancora gratuita l'estensione di keywords everywhere un seo tool abbastanza semplice da usare che ti permette di fare la scansione del tuo profilo linkedin e scoprire quali parole chiave utili più frequentemente il tuo profilo quindi sta attirando le persone giuste quindi qua abbiamo le metriche per la war nas il tasso di crescita le visualizzazioni la percentuale di audience in target quindi non solo la quantità ma anche la qualità importante viene a correnza un matching tra le caratteristiche del tuo cliente ideale del tuo interlocutore chiave in senso lato su linkedin rispetto alle persone che a terra sul tuo profilo poi parliamo di interest e ora gli altri punti li vedremo un pochino più velocemente perché sono già le 18 50 passate quindi prende il tuo profilo interessante come potremmo misurare l'interest in base a quale che lo stanno crescendo i nostri follower quindi io potrei anche cambiare impostazione nel mio profilo sostituendo al bottone collegati nel suo profilo il bottone follo questo modo per ovviamente incrementare e far crescere i tuoi follower quante richieste di collegamento sta ricevendo quanti messaggi privati quale so qual è la qualità dei tuoi contatti di richieste di collegamento quindi risponde alla domanda il tuo profilo è in grado di conquistare l'attenzione e guadagnare l'interesse dei tuoi visitatori come può ottimizzare l'interesse lavorando su alcuni meccanismi o elementi chiavi anche che le neuroscienze ci suggeriscono di curare di curare la foto il posizionamento e lo scopo perché fai ciò che fai direbbe se non fare che qual è il tuo scopo quindi per la foto del profilo 4 riporta alcuni suggerimenti che guru bui kawasaki ha scritto in un suo libro che si chiama social management se non sbaglio quindi la foto lui suggerisce una foto leggermente obliqua una foto grande usa sempre la stessa foto per tutti i profili social falla diventare una sorta di logo del tuo personal brand di avatar effettivamente ricordati che i pochi secondi per attirare l'attenzione quindi gli elementi i studi di eye tracking di tracciamento del dove va a finire la nostra boll bucolare la nostra retina all'interno delle elementi chiave della del profilo il primo punto è la foto poi va a finire sulla line e poi sulla su altri elementi posti d'alti nell'interazione del profilo quindi lavora nella scelta ottimale del profilo e ovviamente la foto del profilo dell'immagine di sfondo e della headline ma qual è il tuo scopo quindi perché fai quel che fai è esplicitato la tua mission nella headline nella sezione about eccetera eccetera e qual è il tuo posizionamento come viene in casellato in che misura è chiaro quello che tu puoi fare per notare gli altri in che misura sei in grado di risolvere un problema a una figura tipica quindi il tuo profilo dove essere subito chiaro a chi ti rivolgi cosa puoi fare per loro e con quale metodo con quale tipo di risultati hai ottenuto quindi tutto ciò ovviamente ha un impatto poi sulla tua credibilità quindi rende il tuo profilo ovviamente interessante e attraente intrigante per il tuo cliente ideale misura poi l'engagement abbiamo già visto i like e commenti l'interazione vai a vedere sulla tua attività analizza le metriche perciò un post le analytics del singolo posto ti permettono di scoprire le persone a quale azienda appartengono che ruolo hanno e da dove si sono collegati un tempo questa è una slide storica era possibile vedere anche la fonte di traffico vedete facebook piuttosto che lì che in questo caso un'attività di social posting cross posting diciamo così potrebbe aver portato anche il traffico davanti social network e il le metriche gli analytics individuali legate appunto al nostro profilo sono abbastanza difficili da consultare quindi dobbiamo manualmente ogni volta andare a cliccare sull'icontina per accedere a questa informazione esiste un app ce ne sono in realtà alcune ma questa è quella che vi consiglio di dare un'occhiata che si chiama scelta app che vi permette di misurare le stesse stradette individuali cioè vi consente di accedere una dashboard dove vedrete in forma aggregata tutta una serie di elementi che invece abbiamo in maniera nativa per misurare le metriche legate a una pagina link quindi vedete le visualizzazioni like e commenti il tasto di engagement in base al numero dei post quindi posso scoprire anche quali sono i miei post migliori in un certo periodo vedete contenuto recente eccetera arriviamo poi la conversione quindi ancora una volta la domanda iniziale come poi alla fine misuri la ricaduta il ritorno sull'investimento dell'attività su linkedin quanti appuntamenti quanti incontri fisici quanti lì degenerato quanti contatti quanti richiesti di preventivo eccetera eccetera e questo è proprio l'essenza poi soprattutto dell'impatto sul business ma non trascurabile anche quanto il traffico qualificato magari da linkedin o dai tuoi company update diventa un potenziale cliente perché arriva sul tuo sito quindi con google analytics un altro sistema web analytics puoi tracciare quantità e qualità del traffico generato dai vari canali social tra cui anche linkedin quindi arriviamo alla sintesi di cosa abbiamo parlato di alcune metriche di linkedin come dire standard o chiave abbiamo parlato di efficacia massima il profilo di social selling index di quanto è importante considerare la percentuale in target dei visitatori che arrivano sul tuo profilo o che interagiscono con i tuoi post quindi potremo misurare visualizzazione del profilo visualizzazione dei post dell'engagement e quant'è il valore qualche modo insito nel tuo network in base a come l'hai costruito ma oltre a queste ci sono altri aspetti di cui abbiamo parlato abbiamo parlato di seo qual è la prima impressione che genera il tuo profilo nei primi secondi quindi abbiamo parlato in qualche modo di prima impressione di personal branding di posizionamento quanto grazie ai tuoi contenuti al tuo profilo ti sta qualificando quale azione le persone fanno quando leggono il tuo profilo quindi quant'è il rapporto tra le persone che atterrono sul tuo profilo alias landing page e fanno un'azione svolgono una call to action che magari tu hai suggerito loro dicendo scrive mi contattano scrivermi nello slatter guarda qua eccetera eccetera e quanto è anche la tua attitudine al dare al condividere quante volte chiede i tuoi collegamenti se proiettano in qualcosa questo è tipicamente un'attitudine che si può rivelare magari si può come dire esplicitare in un messaggio di follow up a fronte di una richiesta di collegamento dopo aver ottenuto un'accettazione magari di un tuo invito allora qualcuno potrebbe dire ok sono 19 andiamo a cena velocemente i concetti chiave legati all'analytics di una pagina linkedin quindi andando con l'amministratore accedendo come la vostra pagina linkedin vediamo le analytics quindi visitatore le update e i follower queste sono le metriche di base quindi i visitor analytics numero di peggio di oli unic visitor e l'andamento in crescita in decrescita questo è l'andamento in base ai click che hai che le persone hanno fatto sul bottone che c'è nella home page della tua pagina linkedin che puoi personalizzare tipicamente ci sarà visita sito web ma ci potrebbe essere anche un'altra un'altra opzione seleziona il periodo temporale lo standard sono 30 giorni e poi puoi scegliere la metrica qui puoi selezionare page views oppure unique visitors queste due curve sono l'andamento desktop mobile puoi anche aggregare e creare una curva unica e cliccando su all pages vedrà invece la possibilità di selezionare una singola pagina per esempio la sezione about che il chi siamo o in size o people cioè le persone che hanno navigato tra i dipendenti della tua azienda ecco molto importante sapere che è possibile esportare i dati in file excel che ti permetterà poi di fare una archiviazione o un ulteriore approfondimento questi sono i dati del file excel vedete qua oltre alle metriche dei visitatori ho tutti i parametri demografici dei miei visitatori location job fashion seniority industry company size che mi ritrovo anche navigando poi all'interno della sezione sottostante quindi io vedo vedete i visito demografiche se qua posso cambiare di menu per fare tutte le mie considerazioni sto attirando i visitatori giusti sulla mia pagina linkedin in termini di location di funzione aziendale di seniority di industria di dimensione dell'azienda e poi vediamo chi sono i follower chi magari dei visitatori ha deciso di diventare follower della pagina ancora una volta posso esportare questa informazione quello che non posso esportare è la nuova funzionalità questo new è dovuto al fatto che ho da qualche mese è possibile scoprire con tanto di nome e cognome chi sono i nuovi follower della vostra pagina linkedin purtroppo non è possibile esportarli nel file excel i dati invece che potete esportare in termini follower demografici sono sempre queste cinque etichette quindi area geografica job function eccetera eccetera qua vediamo i nuovi follower giorno per giorno alcuni magari ora qui non sono in corso campagna di sponsorizzazione altrimenti vedrei i sponsor followers cioè i follower generati da una campagna esiste anche una tipologia di formato che si chiama follower apps proprio per incrementare per spingere le persone a diventare follower della sua pagina linkedin qui vediamo la crescita organica giorno per giorno e quindi poi il totale e poi gli altri demografico quindi non ci sono i nomi dei nuovi follower li puoi leggere solo dallo schermo questo è l'andamento dei follower organici sponsorizzati e questi sono i demografici qui abbiamo anche l'elenco dei dei follower cliccando su vedi tutti i follower qui hai questa interfaccia che scrollabile per cui riesce a vedere tutti i follower quindi parlando poi dell'ultima tipologia di metrica collegati ai compri abita ancora una volta l'andamento la prima metrica è quella dell'impression le visualizzazione delle tue company abete puoi vedere anche tutta un'altra serie di metriche i clic le reazioni commenti di scena se anche l'engagement rate ancora una volta puoi esportare questi dati di analytics rispetto ai company update oppure vedere visualizzarli sotto forma tabellare interessante che se tu hai condiviso un video vedete qua video views ai questo 45 questo questa metrica il numero delle visualizzazioni del video che può essere ulteriormente oggetto di approfondimento cliccando qua tu vedi le performance del video in termini di video performance quindi due due minuti last time 45 di uso quindi il numero dei volte che il video è stato visto per più di 30 secondi eccetera e anche l'engagement ai live in questo caso c'è stato uno share e poi l'audience quindi hai una vista doppia in termini di engagement in termini di audience legato a un contenuto video che è pubblicato sulla pagina linkedin infine in fondo alla parte del del dei follower troverai questa tabella è linkedin come dire in maniera arbitraria ti mostra i tuoi dati quindi il totale follower nuovi follower numero di abete l'engagement rate rispetto a quelle che considera tuoi concorrenti non è possibile cambiare gli item e gli elementi di questa di questa tabella che però è interessante perché qua non si vede ma puoi navigare fino a 5 quindi puoi vedere circa 50 aziende che da tracciare che linkedin considera in qualche modo comparable rispetto alla tua azienda ecco io ho sforato di qualche minuto ma ci tenevo anche ad aggiungere di questa parte sulla sulla company page e sugli analytics vediamo se c'è qualche domanda ok avete se volete ancora qualche minuto per fare la domanda qui vedete la mia membership academy quindi questo è sarà oggetto della via comunicazione promozione perché così come c'è tra voi qualcuno che ha iscritto la mia attuale academy senza fare nomi vediamo se c'è ancora maddalena se c'è ancora senza fare nomi flavio c'era non so se c'è ancora c'è ancora flavio quindi potrei chiedere anche loro di condividere magari un'impressione su quella che è stato il loro percorso ma lo hanno già fatto ora non chiedo di farlo altro qui c'è un badge prossimo edizione generale 2021 prezzo di lancio a 67 euro poi mi manderò questo url via mail ecco io ho terminato le metriche interessanti sugli articoli rispondono domanda massimiliano sono quelle identiche a quelle dei post quindi sostanzialmente le visualizzazioni i commenti e l'interazione e le reazioni che ha generato quindi dal punto di vista delle metriche sono identiche a quelle dei post non ve li ho mestrate perché comunque sono una sorta di ripetizione non so purtroppo codificabili nemmeno con piattaforme esterne tipo tipo shield allora vediamo se c'è qualche altra domanda se qualcuno vuole parlare magari li attivo il microfono per un attimo se no lo faccio io per salutare qualcuno che non ste allora sentiamo massimo bellini che è anche una persona che conosco da molto che anche mi aiuta in alcune attività ciao massimo come va ciao tutto bene grazie per il corso molto chiaro una domanda al volo ti interrompo perché non è un corso un webinar gratuito chiedete bussatevi sarà aperto è assoluta la precisazione giustamente da business oriente giustissima condivido in pieno ok ringrazio anna che mi dice se è sempre troppo bravo maddalena eccetera eccetera come come ti è sembrato ha detto interessante insomma va bene è stato un ripasso ho mai visto un po di cose magari sì una domanda al volo nell'excel che tu fai da export per i post per gli aggiornamenti si lo puoi fare solo come company update attenzione esattamente come tu hai due tab che sono statistiche sugli aggiornamenti e aggiornamento sulle interazioni sono un po ambigui perché in realtà poi dentro trovi le stesse in una hai il singolo post e l'altro è l'aggregato totale se non sbaglio esatto vorrei capire in una in realtà ti dice in un giorno in quel determinato giorno quanti interazioni hanno prodotto quei post invece nella tab successiva ma scorsi per esempio qua che vedi ora nella slide se si vede vedi il primo tab che quello con gli aggregati se poi nel secondo invece è il dettaglio sui singoli ok quindi il primo è più sulla giornata che più esatto prima sulla giornata o puoi fare anche delle medie sull'aggiornamento più facilmente del mese della settimana eccetera però per capirci leo quel nella giornata singola lì c'è l'aggregato anche di più di un post nel senso che potrebbe essere anche la coda lunga di un post del giorno prima si ha ragione e infatti ti fa ti dà una fotografia sostanzialmente dell'engagement accumulato e non è un ragionamento sul singolo post ma è un po sulla sulla pagina giusto osservazione grazie grazie a te vogliamo provare a sentire qualcun altro qualcuno vuole alzare la mano vabbè allora sentiamo chiara bottaro magari mi dà la sua impressione ci sei chiara vuoi dirci mi sentite che sentiamo antio no il super interessante infatti stavo anche scrivendo un post per condividere questa cosa io non ho e vi vuoi fare un favore lo dico a te anche agli altri mettetemi una conferma di competenze piuttosto che se proprio siete ispirate scrivetemi se siamo connessi una una segnalazione però insomma questo sarebbe per me il massimo della creativa gratificazione rispetto a questa condivisione di emozioni oltre che di contenuti o di spero anche conoscenza insomma sì tra l'altro io sono una social media specialist linkedin ai miei social preferito ed effettivamente tutto cioè preferito quello su quale mi sono specializzata noi ci siamo con recentemente aiutami ricordare perché il tuo nome mi dice qualcosa da poco oppure probabilmente un collegamento in comune chi ha parlato di me probabilmente e no soprattutto la parte sui social selling index che non è sempre molto facile da capire e poi anche la ricce organica dei post quello è un valore che che trascende il gratuito diciamo non la sa quasi nessuno ma la mente credo sia un po il valore aggiunto di questo e anche capire un pochino meglio come funziona il malefico social selling index ci può aiutare perché abbia capito che può avere una sua valenza insomma sì assolutamente grazie ancora grazie a te allora vediamo qualche altra persona proviamo a sentire sentiamo flavio che è una persona che già con cui che mi conosce che uno degli iscritti alla membership academy e questo è un tema in cui non abbiamo trattato in maniera forse così estensiva flavio quindi hai fatto bene scriverti spero che ti sia piaciuto che tu abbia preso ancora qualcosa di nuovo assolutamente grazie grazie molte mi senti e si ti sento grazie flavio quindi molto bene non vedo l'ora che lo ripubblichi sull'academy di modo da da andare a vedere alcune cose che non ho che non sono riuscito a prendere appunti va bene va bene quindi tu sei un testimone che comunque l'academy è un luogo interessante da frequentare giusto assolutamente per linkedin assolutamente il maestro grazie mille flavio buona serata buona serata a tutti ciao a questo punto per condicio do la parola anche a maddalena vediamo se c'è ancora mi senti e ti sento buonasera bene anche se venerdì sera ora ora ci salutiamo andiamo a casa però niente ovviamente seguendo la tua academy molte cose le ho ripetute o le già sentite però magari qualcina di nuovo forse un ripasso qualcosa di nuovo forse l'ai vista insomma sì perché soprattutto la analytics della pagina che a me interessa di più e c'erano delle novità che l'altra volta magari non c'erano e quindi mi è servito e faccio una pubblicità a tutti quanti della tua academy perché io sono arrivata abbiamo più un ultima ultimo webinar conclusione questo percorso poi partirà di nuovo a gennaio del prossimo anno volevo chiederti se sono altri argomenti o meno perché bene o male la struttura quella c'è sicuramente qualche aggiornamento perché linkedin nel frattempo ci sta volvendo sicuramente consiglio a tutti veramente di iscriversi perché tanto cioè il rapporto qualità prezzo è imbattibile sfido chiunque una ricchezza di contenuti di novità e soprattutto poi la tua capacità di far ragionare in modo diverso le persone su su strumenti che hanno che sono alla portata magari di tanti ma poi dipende sempre come li usi e come ti insegnano a usarli e quindi sempre un valore aggiunto notevole però immagino che tutti ormai ti conoscano però devo dire che è stata una bellissima esperienza e sono tristissima che siamo arrivati alla fine non ti preoccupare troveremo il modo di continuare questa frequentazione seppur digitale poi magari anche un giorno riusciremo a vederci speriamo che sia possibile grazie mille maddalena buona serata buon weekend ciao 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 va bene allora io direi che facciamo un ultimo sentiamo un ultima voce cecilia papalini se vuol parlare se vuole condividere un pensiero finale lo sapevo se ero attivato o meno con l'audio saluto rossella che ci ha che mi ha scritto che doveva andare che si saluta tu è la prima volta che frequenti che partecipi al mio webinar sì è la prima volta e anzi mi dispiace che mi sono persa tutta la prima parte perché appunto avevo un impegno qua al lavoro mi sono collegata con una ventina di minuti di ritardo però tutta la seconda parte che ho seguito in realtà mi interessava proprio partecipare perché ho di recente scoperto la potenza di linkedin non sospetta e ecco non sapendolo non avendo approfondito l'utilizzo sono stata felice quantomeno di capire le dinamiche di ragionamento e quanti report si possono visionare utilizzando appunto meglio lo strumento ecco sicuramente dovrò approfondire ovviamente la prima parte cecilia io ho spiegato tutto il tema legato alla parte un po più strategica quindi poi dopo sono arrivato alle metriche a presenti gli export eccetera tutta la parte strategica è quali obiettivi di poni che tipo di finalità vuoi dare o di direzione vuoi dare la tua attività su linkedin e sulla base di questo poi andrà a identificare le metri tpi e poi a crearti il tuo dashboard per le tue file excel e le tue strumenti di misurazione o di reportistica insomma assolutamente infatti grazie assolutamente per averci dato modo di partecipare a questo webinar di approfondimento ma se a voi nella nella mail che poi vi spedirò troverete l'informazione per quanto riguarda l'academy vi condividerò la mappa mentale iniziale che abbiamo visto e poi altre altre informazioni per legata appunto a alle prossime attività o comunque a eventi che che riguardano diciamo linkedin for business grazie ancora per il vostro interessamento ripeto se mi volete fare un regalo per il weekend confermato la mia competenza per farlo dovete essere collegati direttamente a me quindi se non lo siete inviatemi una richiesta di collegamento io mi ricorderò dei vostri nomi vi accetterò e poi magari potete confermare la competenza grazie ancora a tutti voi buona serata ciao a tutti buona serata ciao 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 a tutti voi